CURU 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 Chi fa il coraggio per fare questo viaggio? Inizia dalla magica trattava la realtà! CURU CURU Parti il cuore della magia, un universo fantastico! CURU CURU Se tu puoi arrivare in certitudine, sei pronto sempre per parti con te! Straordinaria e prodigiosa avventure, per i tuoi piccoli grandissimi eroi! L'amicizia che li lega è una forza incredibile e indissolubile! CURU 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 Parti il cuore della magia, un universo fantastico! CURU CURU Se tu puoi arrivare in certitudine, sei pronto sempre per parti con te! CURU CURU Parti il cuore della magia, un universo fantastico! CURU 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 Seguendo sempre quel battito del loro, sempre il 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 battito del loro. Ebbene, vi dirò quello che un centrocampista come me sa della...